Investimento e digitalizzazione per dare nuove opportunità al territorio brindisino. La presentazione presso la sede di Confindustria per un progetto fortemente sostenuto dai giovani industriali brindisini. Alla presenza è l'assessore comunale a turismo Emma Taveri. Un'occasione per toccare un tema di grande attualità e di sempre maggiore importanza per le piccole e medie imprese ed in particolare per le giovani imprese. Anche città del sud si stanno ripopolando perché si è diventati attrattivi per quanto riguarda il lavoro digitale e le competenze digitali. Bene, cominciamo a lavorare anche a Brindisi su questo. Aggiungiamo un altro tassello a quello che è un nuovo sviluppo che noi vogliamo per Brindisi perché è uno sviluppo che deve andare di pari passo insieme sempre allo sviluppo dell'impresa, dell'industria che può essere quello del turismo, del lavoro digitale e quindi anche di una nuova popolazione che viene qui nella nostra terra. Quindi l'evento di oggi che punta sulle competenze digitali racconta anche di territori che possono ambire ad attrarre lavoratori ma anche a valorizzare le competenze dei giovani del nostro territorio per far sì che persone possano tornare a Brindisi, che i giovani possano tornare nel nostro territorio e anche alle aziende di investire in una Brindisi che sta cambiando, in una Brindisi che sta puntando a un nuovo mercato del lavoro. Quando un'azienda sceglie Brindisi per investire assolutamente porta ricchezza sul territorio ma dall'altra parte è un tema che anche personalmente da operatore nel settore ET sento particolarmente. In questo caso l'azienda che si insedia è una delle prime aziende che sceglie Brindisi come meta per poter operare nel settore del digitale e questo è un segnale. Puntiamo a Brindisi come un innovation hub italiano del sud. Io sono pugliese quindi ci credo ancora di più in questo investimento e in questo progetto in modo che possiamo portare quella ventata di digitalizzazione che adesso è un attimo un'utopia nel sud Italia, soprattutto in Puglia.